Vedete cari amici, non c'è trucco e non c'è inganno, è scritto qua, Teheran vuole colpire il Mossad, cioè il servizio segreto dello Stato di Israele, vedete che non c'è trucco non c'è inganno, Teheran vuole colpire il Mossad, beh ma non è mica una cosa facile colpire il Mossad, non è facile Teheran, e come fai Teheran a colpire il Mossad? Il Mossad arriva l'ha perduto, ma è imprendibile, non ce la fai Teheran, caro Teheran, è meglio che scendi a più miti consigli Teheran e cerca di volerli bene allo Stato di Israele dove abitano circa 10 milioni di ebrei e lo sai che c'è stata la Shoah, 1940-1945, circa 7 milioni di ebrei messi nei lager, poi nelle cabere a casa e poi nei forni crematori, cerca di volere bene e lo Stato di Israele, carissimo Ayran, e lascerò perdere il Mossad che vola più in alto di te, capito? Ecco qua amici, vedete, non c'è trucco e non c'è inganno, guardate, vedete Teheran vuole colpire il Mossad, molto bene cari amici, a tutti tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.